Un'aquila reale, un'aquila reale, il gatto e il topo e l'elefante, non manca più nessuno, solo non si vedono, i due leocorni, ripetiamo, ci sono due coccodrilli, ci sono due coccodrilli ed un orangotango, due piccoli serpenti, un'aquila reale, il gatto e il topo e l'elefante, non manca più nessuno, non manca più nessuno, solo non si vedono, i due leocorni, i due leocorni.